buongiorno dalle studi di obiettivo news oggi 10 marzo san macario vescovo ed è anche la giornata internazionale delle donne giudice l'istituzione di questa giornata risale l'anno scorso e segno importante pietra miliare negli sforzi globali volte garantire l'uguaglianza di genere e si vada sugli sforzi in corso della rete globale per l'integrità giudiziaria nell'affrontare le questioni di integrità giudiziaria appunto legata al genere un'equa rappresentanza di genere rafforza sistema giudiziario le donne giudice contribuiscono alla qualità del processo decisionale e contribuiscono a creare fiducia nel sistema giudiziario la lotta contro la corruzione e altri reati può avere successo solo se il sistema giudiziario inclusivo diversificato e offre diverse prospettive di genere a creare fiducia nel sistema giudiziaria appunto legata a creare le donne giudiziaria